Valdichiana, buon pomeriggio e benvenuti, bentornati all'edizione numero 2 di Giardino Valdichiana. Vi abbiamo fatto attendere qualche mese, ma solo perché volevamo che questa edizione fosse veramente fatta con i fiocchi. Come vi ho accennato già nel trailer qualche giorno fa, quest'anno è un'edizione ricca di novità. La prima è che ci troviamo all'interno dell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, qua all'interno della bellissima e storica fortezza di Montepulciano appena restaurata. Ringraziamo il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che ci permette quest'anno di organizzare, di fare la nostra trasmissione qua in diretta e io ho già un parterre ricchissimo di ospiti. Qua quest'anno, in questo fine settimana, all'interno della fortezza di Montepulciano, oltre che a degustare un ottimo vino, è in corso Luci sul Lavoro. Luci sul Lavoro è una manifestazione nazionale, organizzata a livello nazionale, dove si tratta principalmente dei tremi del lavoro. Per analizzare un po' qual è lo scenario lavorativo a livello sia regionale ma anche nazionale, quali sono le attività che sono state messe in campo per favorire l'ingresso dei giovani nel lavoro. Ma per parlarci meglio di questa organizzazione, di questa manifestazione che è arrivata, se non ero, alla sesta edizione, ho qui Enrico Limardo, organizzatore dell'evento ma anche il direttore della Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Grazie. Diciamo che sei l'ospite che rompi il ghiaccio di questa nuova edizione. È un onore e un piacere poterlo fare. Grazie dell'invito, grazie di aver scelto l'enoteca che è bellissima, ma anche la nostra manifestazione per lanciare la nuova edizione. Luci sul Lavoro è la sesta edizione in questa formula ampliata e rinnovata, nasce qui a Montepulciano e ha l'interesse ad aprire qui un confronto, mi permetto un termine desueto ormai, ma che a me piace ancora, collettivo sul lavoro. Invitiamo qui a parlare istituzioni, politici, esperti italiani ed europei e immaginare come può cambiare il lavoro, cosa si può fare per modificare il lavoro. Ma possono partecipare tutti quanti, giovani, inviando filmati, inviando fotografie e abbiamo anche dei momenti ludici per capire e per trattare il lavoro. In questo momento in Piazza Grande quattro street artist di fama internazionale stanno disegnando il lavoro dal vivo, per cui fino a domani pomeriggio ci sarà questo impegno di questi artisti all'interno della magnifica cornice di Piazza Grande per poter immaginare e raccontare il lavoro anche con le arti visive. Luci sul lavoro è anche il luogo dove si consegna il premio di laurea Massimo D'Antona. Il miglior tesi dell'anno in diritto del lavoro viene premiata qui a Montepulciano all'interno di Luci sul lavoro. Quest'anno abbiamo premiato una studentessa dell'Università di Ancona la tredicesima edizione del premio di laurea Massimo D'Antona. Luci sul lavoro analizza lo scenario lavorativo nazionale e regionale. Dal tuo punto di vista come è il settore lavorativo? Quali sono al di là delle nuove attività che sono state messe in campo per favorire i contratti e l'inserimento nel mondo del lavoro? È sicuramente un momento difficile per il lavoro, forse meno difficile di qualche mese fa. qualcuno dice che stiamo vedendo la luce di una nuova ripresa in termini di occupazione. Ora, non voglio entrare nei dati perché non è il momento e non abbiamo i tempi. Sicuramente sono state messe in piedi una serie di iniziative legislative o comunque dei progetti, degli avvisi per poter inserire giovani e meno giovani all'interno del mercato del lavoro o reinserire all'interno. non voglio entrare nel tecnicismo, però le regioni e il livello nazionale stanno immaginando iniziative per incentivare il lavoro. Sicuramente i giovani devono immaginare di poter approfittare di tutte quelle che sono anche i contratti riservati a loro. Ad esempio, faccio l'esempio più importante, il contratto di apprendistato. I tre livelli di apprendistato per i giovani fino a 29 anni sono sicuramente delle occasioni di entrare all'interno del mercato del lavoro anche contando su un lato formativo che è sempre importante, non solo per i giovani ma tutto lungo l'arco della vita. Sicuramente due province che comunque vedono un alto tasso di occupazione sono la provincia di Trento e di Bolzano. Qua abbiamo Sergio Vergari, il responsabile dei servizi del lavoro della provincia di Trento. Il modello che c'è nella vostra provincia, è possibile esportarlo e adattarlo anche qua in Toscana? Dunque, ovviamente la contaminazione delle esperienze regionali è importantissima perché naturalmente sollecita risposte potenzialmente diverse rispetto a quelle che si danno in generale. Quindi mi piace la domanda di interrogarci su come poi le buone pratiche possono essere trasferite. E' chiaro che noi partiamo da una realtà come quella di Trento che è un unicum a livello nazionale perché è stata la prima realtà a livello italiano che ha investito nelle politiche attive del lavoro lo ha fatto nel lontano 1983 quando non esistevano ancora né le politiche pubbliche nazionali e neanche le attività dei privati che sono sorte molto dopo. Indubbiamente il tema centrale è quello di assecondare la ricerca del lavoro e l'accompagnamento al lavoro e assecondare anche un concetto di fondo che non sempre viene valorizzato adeguatamente che è quello di concepire i servizi e le politiche del lavoro come uno strumento per la ripresa economica e non semplicemente come una conseguenza. Abbiamo esempi lampanti di paesi europei, la Germania su tutti, che proprio grazie anche agli investimenti sulle politiche del lavoro accompagnate anche da lungimiranti politiche sulla contrattazione collettiva, sui contratti collettivi, è riuscita a generare sviluppo economico. Quindi veramente questo significa, cioè l'investimento sui temi del sostegno dei lavoratori da un lato, ma anche delle imprese nella soddisfazione occupazionale, è un punto di attenzione molto importante per lo sviluppo economico e per la ripresa. Dopodiché il modello trentino si caratterizza per aver sempre messo al centro di tutto gli interessi del cittadino, doppiamente declinati nella figura del lavoratore e del datore di lavoro. E su questo il tema è stato quello di costruire infrastrutture capaci di ascoltare le esigenze, quindi di raccogliere i fabbisogni, perché a monte di tutto c'è deve essere consapevolezza dei fabbisogni che sono i fabbisogni occupazionali e quindi anche fabbisogni eventualmente anche formativi per poter colmare la distanza rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi consapevolezza dei fabbisogni, costruzioni di infrastrutture capaci di raccogliere queste istanze e poi la costruzione di una grande batteria di strumenti per poter offrire delle risposte concrete. Quando parliamo di servizi parliamo di attività, di percorsi che si alimentano di piccoli tasselli, che sono poi le singole attività che si mettono in campo per riuscire a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta. E questo è un lavoro che si deve fare con grandi investimenti, cioè con la consapevolezza che bisogna mettere risorse finanziarie capaci di sostenere questi percorsi, che a volte sono percorsi ovviamente di un certo impatto, sia per la numerosità dell'utenza che vi accede, sia anche per la robustezza dei percorsi che devono essere messi in campo, quando soprattutto si è incapaci di saldare immediatamente la domanda espressa da un'azienda con il fabbisogno di un lavoratore. Quindi l'esperienza ci dice che bisogna lavorare in questa duplice direzione. Grande attività di raccolta delle istanze, quindi sportelli e diffusione anche della consapevolezza su quanto siano importanti i luoghi di mediazione delle istanze e dall'altra anche capacità di offrire delle risposte. Il messaggio che possiamo dare, sia come istituzioni pubbliche che come operatori privati, è quello di concepire i servizi e le politiche come uno strumento, come dicevo prima, di grande sostegno. Questo perché? Perché stiamo assistendo ad una trasformazione strisciante e però molto più veloce rispetto al passato del tessuto produttivo e quindi cambia il modo di fare impresa, cambiano i profili professionali, cambiano le professionalità e c'è bisogno di accompagnamento. I canali informali che da sempre connotano in via prevalente il mercato del lavoro non sono più destinati a reggere la sfida dell'innovazione, quindi c'è bisogno di intermediazione professionale. Questo lo possono fare il pubblico e il privato insieme, possibilmente dentro schemi condivisi, dentro percorsi condivisi, ciascuno nel proprio ruolo, però con la consapevolezza di dover investire nella costruzione di percorsi e di batterie e di strumenti, come dicevo, capaci di assecondare la diversità e la molteplicità dei bisogni che esistono. Ecco, Vicepresidente Vincenzo Silvestri, Vicepresidente nazionale dell'Ordine Consulente del Lavoro, anche alla luce di quello che ha detto il Dottor Vergari, quali sono i contratti che possono essere fatti a un giovane che entra nel mondo del lavoro e soprattutto se l'alternanza scuola-lavoro favorisce veramente l'entrata del giovane nel mondo del lavoro? Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti. Allora, oggi si parla sempre più spesso appunto di alternanza scuola-lavoro ed è sicuramente uno dei strumenti, dei canali di accesso al mondo del lavoro per i giovani, ma non è l'unico come vedremo. Credo che comunque in questo momento nel nostro paese ci sia, come peraltro è messo oggi abbondantemente dal dibattito che è stato proprio fatto qui a luci del lavoro, in uno dei workshop, e come ci sia ancora in Italia un grosso deficit culturale riguardo appunto all'alternanza. Oggi l'alternanza funziona perché ci sono alcune ottime esperienze ed esperimentazioni specifiche sul territorio che molto spesso sono legate a iniziative individuali o perché sono grandi aziende che se lo possono permettere, dico una fra tutte l'Eini o l'Einel che hanno fatto delle sperimentazioni molto molto importanti per fare l'ingresso nel loro bacino di giovani soprattutto con il contratto dell'apprendistato. Mentre per quanto riguarda sul fronte dell'alternanza è ancora frutto di iniziative individuali da parte di scuole, presidi che riescono in qualche modo con grandi difficoltà a mettere in piedi un meccanismo che però quando funziona dà i suoi frutti. L'alternanza fondamentalmente ha l'obiettivo di aprire all'interno del mondo del lavoro o per esempio nel mondo della scuola la conoscenza, cominciare a far conoscere il mondo del lavoro. Quindi questo è molto importante perché uno dei mali del nostro sistema è stata sempre questa distanza tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro. Apparteniamo a una cultura ancora dove nelle famiglie quando si finisce la scuola dell'obbligo si continua a discutere se è meglio il classico o lo scientifico. e questo naturalmente ormai con i nuovi lavori e le nuove esperienze e professionalità è un modo un po' stantio di concepire. E quindi in questa logica ancora un po' vecchia si continua a evitare la contaminazione tra l'istruzione e il mondo del lavoro. Ora senza che l'una possa influenzare sull'altra perché è altrettanto importante che il percorso scolastico venga mantenuto perché poi dopo non ci possiamo e dobbiamo lamentare che i nostri giovani magari scrivono i temi con la cappa piuttosto che è con la cappa, quindi con il linguaggio tipico degli sms perché c'è un grosso deficit alla scuola. Quindi senza che le due cose in qualche modo possano inquinare l'una con l'altra è corretto però che all'interno di un percorso scolastico si introducano degli strumenti che permettano ai giovani di cominciare a conoscere il mondo del lavoro. Questo sia nella fase appunto del diploma, cioè prima di arrivare al diploma come adesso è diventato obbligatorio con i decreti della legge 150 della buona scuola ma sia soprattutto anche all'università perché anche le università scontano questo grosso problema di mancata vicinanza tra momento scolastico, cioè momento di approfondimento universitario e momento del lavoro. Quindi questa è una fase molto importante, quindi tutte le attività di plasmette che le scuole e le università possono mettere in campo sono fondamentali perché oggi scegliere un'università o scegliere un percorso scolastico che abbia anche delle opportunità e questo è un altro gap che dobbiamo recuperare nel nostro ordinamento cioè dire appunto l'incontro, domanda, offerta di lavoro deve anche passare che in teoria io devo essere libero di scegliere il percorso scolastico perché so anche che il percorso scolastico mi porterà a un determinato sbocco occupazionale oggi invece definirlo random è quasi un eufemismo che in realtà oggi veramente è molto complicato ricordo le schiere di giovani che per diversi anni si iscrissero a percorsi scolastici che poi di fatto si sono rilevati dai boomerang perché di fatto non avevano poi nessuna possibilità questo perché manca una precisa programmazione a livello statale, a livello di Miura a livello generale che in qualche modo canalizzi l'offerta, la domanda verso sbocchi occupazionali quindi questo è sicuramente un grande tema che sicuramente va affrontato che penso che in Italia finalmente si comincia a parlare tornando alla domanda iniziale che tipo di contratti beh è chiaro che oggi lo strumento principe per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere l'apprendistato parlo al condizionale perché l'apprendistato appunto è il contratto quello dal punto di vista dei costi sia normativi sia economici più basso e quindi come approccio al mercato del lavoro l'apprendistato sicuramente dovrebbe essere lo strumento principale parlo al condizionale perché in effetti negli ultimissimi anni si sono poi in realtà accoppiate e introdotte altre politiche di incentivazione all'occupazione che di fatto hanno cannibalizzato l'apprendistato perché in buona sostanza si è utilizzato lo strumento di incentivi contributivi la defiscalizzazione del costo del lavoro, la decontribuzione del costo del lavoro che a questo punto diventa molto più vantaggioso perché evidentemente se io riesco ad assumere un giovane o comunque riesco ad assumere una persona non pagando i contributi per tre anni come è stato fatto negli ultimi interventi governativi non ho neanche interesse ad attivare un contratto di apprendistato ma voglio dire oggi ho un giovane che gli diciamo perché fuori dai tecnicismi beh gli diciamo questo di studiare di cercare di attivare un percorso di studi che possa essere il più attinente alle proprie attitudini di sforzarsi, di specializzarsi all'interno di questo percorso e di cercare all'interno del percorso scolastico e poi universitario una collocazione che possa essere la più rispondente a quelle che sono le proprie aspettative e soprattutto sviluppare la parte del professionale oggi gli istituti professionali possono rappresentare si parla tantissimo di industria 4.0 si parla tantissimo di imprese che dovranno riconvertire la propria attività il proprio modo di produrre adesso ci sono nuovi modi di lavoro che cambiano ci sentiamo dire questo messaggio continuo ecco gli istituti professionali oggi possono rappresentare uno strumento di grande prospettiva per i giovani perché effettivamente oggi abbiamo bisogno di manol'opera specializzata che sul campo possa da questo punto di vista affrontare questo cambiamento e credo che questo tipo di scelta professionale quindi voglio dire non per abbuerare la classica università ma sono due percorsi diversi sono due percorsi che vanno valutati da parte dei giovani con grande attenzione perché oggi credo che bisogna guardare insomma a 360 gradi perché le politiche purtroppo del lavoro sono collegate alle politiche economiche e quando un processo economico non è sviluppato di conseguenza le politiche economiche le politiche del lavoro piangono e ne soffrono corrispondentemente Allora Enrico i temi discussi oggi come abbiamo visto sono veramente tanti e ci sarebbe da fare un'altra mezz'ora di trasmissione Flucid sul lavoro continua domani qua è sempre in fortezza brevemente quali sono gli appuntamenti che domani avete in programma? Domani mattina c'è un importante incontro che può essere utile per moltissime aziende del territorio si parlerà del welfare aziendale c'è quindi la possibilità data alle aziende di incentivare il lavoro usufruendo di detassazioni rispetto agli incentivi dati ai dipendenti cerco di essere sintetico e di spiegarmi un'azienda che ha interesse a incentivare il lavoro dei propri dipendenti e vuole dare qualcosa in più rispetto alla retribuzione ha la possibilità di farlo dando ai dipendenti servizi invece che retribuzione in questo modo l'azienda risparmia i contributi ma il lavoratore ha a disposizione sicuramente essendo detassata questa parte di retribuzione aggiuntiva ha la possibilità di avere un valore economico maggiore da spendere in servizi ma i servizi li sceglie il lavoratore e non l'azienda e vanno dai più svariati ci può essere il carrello della spesa i buoni benzina la palestra la piscina l'asilo nido per i bambini è una cosa molto interessante e innovativa per cui chi avesse la possibilità di venire ad ascoltare avremo i maggiori aspetti sul tema qui con noi in fortezza a Montepulciano e allora veramente grazie vi abbiamo un attimo rapito dai vostri convegni noi diciamo un piccolo stacco relax torniamo subitissimo riempiamo i bicchieri eccoci di nuovo in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano abbiamo già iniziato con Slancio la nostra seconda edizione del Giardino Valdichiano già tanti temi già tante personalità e approfondimenti interessanti per voi i nostri lettori che ovviamente voi ci potete mandare i vostri commenti a posta redazione o semplicemente commentando la nostra diretta il nostro amico Vento quest'oggi ha deciso di venirci a fare visita però va bene perché qua è veramente una bellissima terrazza dove oltre che a godere di una bellissima brezza possiamo vedere un panorama fantastico magari poi se ci seguite fino alla fine ve lo facciamo vedere ma solo alla fine allora io do il benvenuto a un nostro nuovo ospite il proprietario dell'azienda agricola LeBern Andrea Natalini allora benvenuto nel nostro salotto diciamo che godiamo noi del panorama allora ringraziamo Andrea e il consorzio perché comunque noi quest'oggi siamo un po' vostri ospiti siete un po' nostri ospiti allora parliamo della tua azienda agricola dove è situata nel territorio di Montepulciano la storia e quali sono i prodotti della vostra azienda allora la nostra azienda parlo della nostra azienda perché è un'azienda a conduzione familiare è situata nella frazione di Cervognano che è una piccola frazione che si trova tra Acquaviva e Montepulciano diciamo a sud di Montepulciano in un territorio molto vantaggioso per la produzione di vino la nostra azienda nasce alla fine degli anni 60 quando mio nonno e mio padre l'hanno riscattata dalla mezzadria già prima veniva condotta sempre da loro in mezzadria alla fine degli anni 60 hanno deciso di acquistare questa azienda e di iniziare tra le tante cose anche la produzione di vino quindi impiantando nel 69 il primo vigneto vigneto che tutt'oggi è in vita e per la Toscana avere un vigneto così vecchio è già una cosa abbastanza rara poi alla fine degli anni 90 quando io comunque ho finito di studia ho iniziato a lavorare come dipendente abbiamo preso la decisione di intensificare il nostro lavoro quindi abbiamo aumentato il numero degli ettari evitati e abbiamo iniziato a pensare di imbottigliare la prima annata che abbiamo imbottigliato era l'annata 97 tra l'altro anche una splendida annata si parla dell'annata 97 quindi prodotta e iniziata a vendere nell'anno 2000 con tutte le difficoltà che comunque ha un'azienda familiare in quanto comunque devi pensare all'impianto della prima barbatella fino alla vendita dell'ultima bottiglia era un po' un'avventura non dico un tuffo nel buio però insomma un tuffo un po' pericoloso perché comunque per un'azienda che aveva sempre solo prodotto vini sfusi e viveva anche sui seminativi e sui bestiame era una cosa completamente nuova che soprattutto al mio babbo lo spaventava tanto oggi possiamo dire che le cose sono andate abbastanza bene la nostra azienda è abbastanza conosciuta il prodotto che produciamo riusciamo a venderlo tutto attualmente produciamo circa 50-60 mila bottiglie e vengono vendute tutte quante abbastanza bene ecco parliamo un attimo del vino nobile quali sono i punti di forza di questo prodotto ma anche punti critici se ci sono ma per quanto riguarda il vino nobile io ne parlo della nostra azienda perché poi ogni azienda ha le proprie caratteristiche sicuramente per quanto riguarda globalmente il vino nobile è un vino molto conosciuto un vino conosciuto soprattutto per il rapporto qualità prezzo ricordo che un po' di anni fa una rivista tedesca ci ha proprio ritenuto il vino con rapporto qualità prezzo migliore al mondo quindi questo è un grandissimo vanto sicuramente ricopre un bel territorio per quanto riguarda le criticità della nostra azienda quella della produzione del vino nobile sicuramente come ho detto prima è quella che comunque è un'azienda a conduzione familiare quindi tutti devono fare un po' di tutto e quindi come ho detto prima dall'impianto della prima barbatella fino alla vendita dell'ultima bottiglia passando per tutte le vinificazioni passando per la commercializzazione che forse è la parte più difficile per quanto riguarda un'azienda familiare perché per quanto riguarda la produzione o bene o male tutte le aziende che hanno una profonda conoscenza contadina non hanno grandissime difficoltà nella produzione nella vendita si entra in un settore dove comunque siamo tutti un po' neofiti nessuno conosce bene il mercato ma forse anche tra gli esperti ci sono tanti che non conoscono un po' così bene il mercato e per quanto riguarda i pregi della produzione del vino nobile è sempre la stessa che comunque può seguire tutti quanti i vari livelli di produzione e quindi conosci molto bene la tua azienda conosci molto bene il tuo vino e conosci molto bene anche la denominazione senti invece andando a parlare delle caratteristiche del tuo vino quali sono? come si può descrivere? se dovessi usare tre parole per descrivere il tuo vino tre parole sono poche sicuramente intenso questo si sente al naso color rosso rubino e poi come tutti i vini a base di Sangiovese qualche piccolo riflesso un po' più sull'aranciato diciamo ancora questo è un vino molto giovane quindi non ha grandissimi riflessi voi non lo potete sentire l'odore ma ve lo raccontiamo e il terzo forse per avere il terzo termine bisognerebbe assaggiarlo assaggiarlo allora lo diciamo dopo lo diciamo dopo ok va bene senti quest'anno per non è un clima è un po' anormale diciamo le gelate di fine aprile questa siccità una primavera poco piovosa come sarà la vendemmia del 2017 la vendemmia del 2017 in questo momento sicuramente promette molto bene sicuramente avremmo bisogno di pioggia un po' di pioggia farebbe più che comodo il giugno è stato un giugno molto anomalo perché abbiamo avuto temperature da 33 a 36 gradi quindi la pianta diciamo che attualmente è già in alcuni punti in stress idrico ma lo stress idrico per quanto riguarda il Sangiovese poi non è un problema così così grosso sicuramente dipende quanto tempo andrà a lungo questo stress idrico ricordiamoci che siamo al al 6 di luglio quindi ancora c'è parecchio tempo ad arrivare alla vendemmia comunque la pianta generalmente riesce sempre io quando si parla di piante parlo di piante adulte sicuramente quando si parla di vigneti giovani che ancora non in produzione e da poco in produzione sono già in sofferenza ma per quanto riguarda la pianta adulta riesce sempre ad avere i suoi meccanismi di difesa quindi si chiude in se stessa evita al massimo l'evotraspirazione è come quando diciamo di una persona in stato vegetativo è lì ferma che fa poco diciamo però ad oggi le premesse sono molto buone sicuramente un 50-100 mm d'acqua farebbero parecchio comodo senti tu arrivi anche dall'esperienza appena conclusa da presidente del consorzio del vino nobile come è stata questa esperienza come giudichi è stata sicuramente un'esperienza molto bella un'esperienza formativa per me ho imparato tante cose penso di aver dato tante cose mi ritengo un buon conoscitore del mio territorio perché comunque la mia famiglia è nata da Montepulciano da tre generazioni forse anche prima quanto pare vengono da Torrita insomma non è che sia un po' così così distante Torrita è un paese a caso un paese a caso e comunque come dicevo per me è stata una bella esperienza poi arrivi a un certo punto dove comunque tra azienda tra famiglia tra un cantiere di nuova apertura perché stiamo ampliando la cantina arrivi a un certo punto dove come si dice quando la fatica supera il gusto forse è bene lasciare il passo ad altre persone continuo ad essere consigliere do una mano dove è possibile quando mi viene richiesta a Piero lo faccio molto volentieri Piero me lo chiede molto volentieri quindi è è stata sicuramente una bella esperienza ecco Piero Di Betto diciamo è il nuovo è il tuo hai passato il testimone a Piero Di Betto allora tu hai accennato all'ampliamento della tua cantina e quest'inverno tornando un attimo al discorso del lavoro hai anche ospitato tre ragazzi in alternanza scuola-lavoro come è stata questa esperienza per te e come vedi i ragazzi giovani avvicinarsi al mondo del vino allora premendo che due di questi ragazzi sono venuti anche in inverno e tre sono stati ora a giugno a fine scuola ma in particolar modo i due ragazzi che comunque frequentano l'azienda di più loro ritengono almeno a quello che dicono a me la ritengono una bellissima esperienza in quanto riescono a a mettere in pratica tutta quel un po' di tutta quella teoria che gli viene spiegata e poi spesso e volentieri si capisce anche un po' la differenza fra teoria e pratica e forse vederla in campo è sempre la miglior cosa in particolare anche perché i due ragazzi comunque sono abbastanza abituati al lavoro in campagna mentre a primavera è venuta anche una ragazza che non aveva diciamo mai calpestato i campi e forse è quella che è stata proprio più entusiasta in quanto per lei sono tutti quanti termini nuovi una ragazza che premetto è molto brava anche a scuola penso che abbia la media del 9 di roba del genere insomma è una ragazza bravissima che però quando ha visto poi la pratica a confronto con la teoria forse in un momento anche un pochino spiazzata poi comunque le persone brave le persone che sanno studiare le persone che sanno comprendere riescono a comprendere subito anche il lavoro quindi comunque è sempre molto importante anche la cultura questo è sicuro certo senti per chi volesse visitare la tua cantina è possibile fare delle visite delle degustazioni sì sì noi facciamo normalmente le degustazioni tra l'altro la degustazione la nostra cantina è gratuita è possibile assaggiare tutti quanti i vini ricordo che i vini che produciamo sono il rosso di Montepulciano il nobile di Montepulciano una riserva di nobile e poi abbiamo un IGT che è un vino un po' atipico che è un colorino in mamolo e poi il vinsanto che è una cosa meravigliosa dico vinsanto non è non è lavoro non è business ma è solo passione perché se uno dovesse considerare tutto non produrrebbe davvero vinsanto manca una parola per definire questo vino lo beviamo spettatori è buono mi posso dire che è buono io metto una parola è buono ma io lo direi intenso e profondo proprio morbido bello tannico da abbinare con da abbinare un po' un po' con tutto comunque vabbè il top è in con carni rossi e formaggi stagionati comunque da bere anche a tutto pasto allora Andrea ti ringraziamo per essere venuto qua a trovarci in questa bella so che questa terrazza è veramente rilassante ci staresti le ore tranquillamente però ti dobbiamo salutare durante il presidenza ci sono stato tanto ah ecco ah ecco quindi lasciamo posto a degli altri ospiti ti ringrazio davvero per essere stato nostro ospite qua questa sera voi continuate a seguirci finiamo di bere il vino e torniamo subito a tra pochissimo ed eccoci di nuovo qua ancora in diretta dall'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano all'interno della Fortezza di Montepulciano allora cambio di set al volo e abbiamo parlato di lavoro abbiamo parlato di vino abbiamo parlato di prodotti tipici e qua ci sono due rappresentanti la presidentessa dell'associazione Castelmuzio Borgo Salotto una neo associazione nata da poco ma già molto attiva e uno dei consiglieri che è Giorgio Baldambrini loro oltre a promuovere il borgo di Castelmuzio tutelano e cercano di promuovere appunto anche i prodotti tipici tra cui anche il vino l'olio piuttosto che le terracotte ma Maria Stella raccontaci com'è nata questa associazione da quanto è nata e chi ne fa parte buonasera a tutti prima di tutto niente è una neo associazione nata da pochissimo ufficialmente ma che già sta operando sul territorio da circa un anno e mezzo è nata da un gruppo di amici che si sono trovati ad organizzare delle feste la festa dell'olio del 2015 mi sembra che venne particolarmente bene fu molto sentita e molto ben costruita e da lì è venuto fuori il divertimento di cercare di valorizzare appunto l'olio ma forse anche proprio il nostro territorio di Castelmuzio perché Castelmuzio è un piccolo borgo qui vicino che pochi conoscono che forse dalla terrazza lo vediamo anche forse lo vediamo sì ma pochissimi conoscono perché sono tutti turisti anche le passeggiate domenicali vengono fatte sulla traiettoria Pienza San Quirico Bagno Vignoni quindi noi rimaniamo un po' in una zona tranquilla è bellissimo è un borgo circolare ha dei panorami stupendi delle luci fantastiche è un borgo definito da molti magico e quindi dietro a questa magia abbiamo cercato di cioè abbiamo cercato ci siamo trovati e vogliamo appunto dargli uno spunto per per partire per decollare per viverlo meglio sia noi come abitanti sia i turisti sia anche tutte le altre persone che l'hanno lasciato ma che continuano ad amarlo perché sono molte le persone che hanno vissuto Castelmuzio hanno conosciuto e che lo amano ancora e tornano ancora come facciamo questo con eventi con progetti perché diciamo si organizziamo feste e cose varie ma molto importante noi abbiamo realizzato anche delle importanti innovazioni a Castelmuzio l'anno scorso l'anno scorso tutto gratuitamente ristrutturato i bagni pubblici e abbiamo il bagno salotto noi abbiamo un bagno adeguato per portatori di handicap con dentro delle ceramiche bisazza famoso mosaico bisazza con tutto realizzato dalla progettazione all'esecuzione alla fornitura dei materiali gratuitamente perché tutti gli imprenditori locali e anche non locali si sono adoperati per far sì che questo progetto una nuova forma di imprenditoria più intelligente una nuova forma di pubblicità imprenditoriale potesse andare avanti su questa linea abbiamo appunto ristrutturato il nostro bagno il bagno salotto e il salotto che è la nostra terrazza del belvedere perché salotto Castelburgo salotto perché lì si sta bene cioè si può parlare si può mangiare chiunque può fare può in questa terrazza può bere un bicchiere di vino si può trovare può giocare a carte può scambiare due parole oppure non le può scambiare come un salotto proprio di casa propria è la stessa cosa quindi diciamo che qui all'Eno di Teca a Montepulciano vi sentite un po' a casa siamo sulla terrazza possiamo bere un bicchiere di vino gli elementi ci sono tutti senti attualmente sono in corso due manifestazioni le vogliamo ricordare come si chiamano che cosa proponete al turista ma anche al cittadino che abita a Castelmuzio allora abbiamo un'estate molto densa di eventi perché veramente tutte le settimane abbiamo qualcosa nello specifico la più vicina è quella di domenica prossima che è a Picicchia una gara di lunghetti perché a Castelmuzio i pici si chiamano lunghetti precisiamo che è alla seconda edizione molto sentita tra le donne del paese che tutte si sono adoperate per preparare i pici e faranno proprio anche la gara e poi martedì dopo ci sarà il secondo appuntamento con la rassegna letteraria per la presentazione di un libro di Paolo Ciampi che è un giornalista di Firenze che scrive di cammini di cioè di quello che di meditazione uno che cammina molto e tutto questo viene poi continuerà anche la nostra rassegna musicale perché abbiamo ben sei importanti eventi musicali due sono già passati abbiamo avuto un importante corale tedesca nella terrazza appunto del Belvedere che è stata una cosa fantastica 40 persone che hanno suonato e cantato un pomeriggio intero è stata veramente un'esperienza e dopo abbiamo offerto cioè le ditte locali si stanno prodigando perché come facciamo noi a far conoscere i nostri prodotti tramite le nostre ditte che offrono appunto delle degustazioni gratuite e sono venute veramente delle cose fantastiche sì molto belle dove vino olio pane le nostre caratteristiche credo sono state molto apprezzate da turisti e anche da persone di Castelmuzio certo Giorgio appiccicchiare questo torneo di lunghetti allora non di pici ma di lunghetti come è nata questa idea? a me piace più a me piace più chiamarli pici a me personalmente quindi ma è nata l'anno scorso alla prima edizione cominciò così un po' per gioco dai e facciamo poi visto che è piaciuto abbiamo pensato di fare la seconda edizione e magari ampliando anche il numero delle squadre l'anno scorso eravamo in tre per squadra però viene un pochino più dispersivo quest'anno due per squadra mi pare quindi anche più insomma si aiutano meglio e lì che fanno? c'è la prova dell'impasto i concorrenti hanno concorrenti un po' perché poi è un gioco insomma ad ogni modo i concorrenti hanno mezz'ora di tempo per preparare l'impasto e dopo dieci minuti per fare proprio il picio ovviamente ci sarà la giuria che verificherà l'impasto la durezza come deve essere e poi verificherà anche come sono fatti i cici che non devono essere inferiori ai 5 mm quindi occhio ecco dopodiché saranno portati alla cottura e la stessa giuria assaggerà con diti con i sughi che fanno le nostre donne assaggerà e valuterà quello che sarà avvenuto meglio è difficile è molto difficile però siccome un vincitore ci dovrà essere e ci sarà ma in realtà poi vinceranno tutti la festa è quella ecco dopodiché finito il tutto ci sarà una grande mangiata di piatti di pici a tutto spiano chi vorrà venire è invitato ecco questo in sintesi possono partecipare tutti non c'è limiti di età o comunque alla gara io per dire non potrei partecipare perché a me non c'è una scuola di pici ecco sì contemporaneamente c'è un'ora di scuola di pici possono partecipare sì tanti però credo che si sia arrivati a un numero abbastanza chiuso già perché poi ci manca il tempo comunque perché lo facciamo nella piazza del paese il posto è quello è una bomboniera ma più di tanti tavoli non ci stagno quindi è così e poi dopo tutti a mangiare a mangiare i prodotti tipici senti Maria Stella ci sono delle difficoltà nel promuovere un borgo piccolo come può essere Castelmuzio avete trovato delle criticità o comunque sono facilmente circunnavigabili questi eventuali problemi che avete trovato o non so spero di non li trovare però ci sono sempre qualche piccolo inghippo beh come tutti i paesi come tutti i piccoli paesi ci sono i propri equilibri le proprie quindi bisogna andare sempre molto piano nel rispetto di tutti di tutte le persone in linea di massima comunque abbiamo trovato tanto entusiasmo sia nelle persone giovani che meno giovani perché noi abbiamo delle persone molto attive che abbiamo la mamma appunto di Giorgio che farà i pisci domani che ha non diciamo l'età perché si arrabbia poi collaboriamo con tutte le associazioni perché praticamente siamo 300 anime e quindi gli attivisti si ritrovano in tutte le associazioni e sì criticità forse all'inizio uno viene guardato un attimino con sospetto non nemmeno sospetto diciamo un po' da lontano però ogni riunione che facciamo ogni festa che facciamo aumentiamo sempre di persone sia che partecipano quindi questa è una cosa molto importante quando poi ce ne andiamo via tutti con il sorriso credo che sia veramente bello insomma è lo scopo poi alla fine finale lo star bene a Castelmuzio lo star bene appunto chi lo vive chi lo frequenta per un breve periodo e chi appunto lo ama insomma ecco deve lasciare un buon un buon ricordo sì un buon sapore senti questa associazione è anche un modo è un aggrega un po' il paese fa sentire più più il paese dei cittadini può essere anche questo uno scopo dell'associazione sicuramente sì perché è proprio cioè tutto quello che facciamo noi su consiglio anche cioè non è che partiamo di iniziativa ascoltiamo anche quello che dicono le persone quello che suggeriscono tutte le persone siamo aperti proprio a suggerimenti le nostre riunioni sono aperte perché vogliamo appunto che il cittadino ci dica di quello di cui ha necessità e cosa preferirebbe che facessimo sia in eventi ma anche poi in progetti perché anche fare delle opere diciamo muover non perdere quel sistema di lamentarsi e qui non fa niente nessuno proprio andare in prima linea noi direttamente e cercare di smuovere un po' la situazione smuovere la sensibilità dei nostri cittadini ma anche delle attività e degli imprenditori senti di solito le interviste si finiscono con progetti futuri voi oltre a queste attività che state facendo e al torneo di appicciamento che è proprio pochissime ore dal via del torneo ci sono ci sono altri progetti che avete per il futuro o cui state già lavorando o che vorrete lavorare beh certo come eventi sicuramente il più importante che dobbiamo iniziare ad organizzare sarà la prossima festa dell'olio anche in un'annata un po' in fausta come questa quindi 13, 14 e 15 ottobre festa dell'olio nuovo a Trequanda ma parte con Castelmozio e come progetti sì abbiamo in ballo diciamo di rivedere un attimino la segnaletica ma la segnaletica sotto un punto di vista anche estetico del borgo quindi le varie indicazioni oppure anche targhe che ricordano qualcuno dei pensieri che ci hanno suggerito anche i numerosi turisti e poi anche l'altro un po' più ambizioso di ripristinare un po' dei percorsi trekking dei percorsi per le escursioni anche delle persone che vengono lì e che cioè dovrebbero visitare la montagna dell'Ecceso abbiamo la croce dell'Ecceso oppure la pieve di Santo Stefano cioè ci sono tante cose belle da vedere insomma e quindi volevamo appunto rifare un circuito di percorsi di escursionistica certo allora Giorgio le cose da fare sono tante ma noi della Valdichiana siamo lavorativi in prima linea e siamo sempre pronti a nuove sfide e a nuovi progetti allora Maria Stelle e Giorgio io vi ringrazio per essere venuti qua a trovarci nella nostra terrazza qua sulla Valdichiana che se guardiamo bene forse Castelmunzio lo vediamo da per vedere si vede Montepulciano allora magari domani sera ci salutiamo allora grazie grazie davvero di essere stati con noi state ancora lì perché non abbiamo finito ve l'abbiamo detto nuova edizione più ricca con una nuova location qua all'interno dell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile tra pochissimo arriviamo con l'ultimo blocco e vedrete che personaggio avremo dopo state lì non ci abbandonate ciao ed eccoci di nuovo tornati qua all'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano vi abbiamo fatto aspettare un po' di più in questa ultima nostro blocco della trasmissione perché abbiamo cambiato angolazione per farvi vivere appunto l'Enoliteca a 360 gradi perché oltre oltre che a venirci vi aspettiamo qua con noi a venirci a trovare a bere comunque degustare un ottimo vino ci siamo dovuti adattare perché sono venuti a trovarci tanti tanti ospiti tutti i protagonisti del 42esimo cantiere di internazionale internazionale d'arte di Montepulciano e qua con me c'è il direttore artistico Roland Boer che ci parlerà appunto del cantiere che partirà il 14 luglio so che siete indaffarati presi dalle vostre prove vi abbiamo un po' rapito dai vostri impegni e Roland quest'anno il tema è contemplazione ed ecstasy perché la scelta di questo tema? Allora contemplazione ed ecstasy si capisce meglio sullo sfondo dell'edizione degli anni passati nel mio primo anno come direttore artistico ho scelto terra guerra e pace come la tematica per chiedere la domanda che cosa sono le precondizioni per la pace e una risposta era la formazione culturale e soprattutto musicale per imparare tutte le discipline come la solidarietà la pazienza il rispetto per l'altro e finalmente il fare qualcosa di bello insieme l'anno scorso abbiamo passato una tematica natura tra natura e tecnologia con la domanda se noi come esseri umani siamo ancora parte della natura o siamo già granocchi di una macchina che non si ferma più per arrivare finalmente in uno stato più diciamo spirituale e tra questi opposti la contemplazione e l'estasi facciamo in questa edizione un percorso attraverso la meditazione anche la meditazione nel senso religioso tramite le diciamo riti arcaici il ciamanismo le danze lisce e le danze scatenate fino alla trans nella programmazione questo sarà rappresentato in grandi contrasti immaginate pure una serata con canti gregoriani al tempio di San Biagio e come contrasto un'altra serata in piazza grande con un nuovo balletto di Davide Manuccini con una traccia elettronica che si riferisce al ciamanismo con una nuova coreografia su commissione del cantiere di Maria Stella Pogioni dell'Ecole dei Balli di Sinalunga solo per dare qualche esempio di questi grandi contrasti della programmazione in programma una opera lirica classica di Antonio Salieri titolata Il mondo alla rovescia anche in titolo ho scelto apposta per sì per chiedere noi la domanda ok il punto di vista che abbiamo è veramente solo l'unico punto di vista che possiamo prendere perché in questo mondo alla rovescia le donne sono vestiti da soldate e gli uomini sono vestiti da donne eccetera eccetera ne parleremo più tardi ma il mondo alla rovescia anche come una produzione di tutte le forze disponibili a Montepulciano ne parleremo un po' più tardi in più dettaglio solo per sottolineare anche gli altri aspetti della programmazione ne abbiamo come al solito tre grandi concerti sinfonici con l'orchestra sinfonica del Royal Northern College di Manchester saranno rappresentati 13 nazioni e continuiamo questa bellissima collaborazione con noi di nuovo tra l'altro con prestigiosi artisti come la Barbara Frittuli nel mio primo concerto sinfonico il 23 luglio in Piazza Grande con Marcus Bellheim pianista e altri solisti rappresentati finiamo con un concerto di chiusura in Piazza Grande con tre direttori sul palco scenico con Harry Shankar un giovane direttore malaisiano e anche con Marco Angio specialista della musica moderna e me altre cose come improvvisazione in piazza anche ho già detto la gala di danza musica da camera tanta roba quindi più di 40 se non 50 eventi in due settimane sì per ritornare alla produzione di Il mondo alla rovescia vorrei sottolineare che si tratta di una produzione veramente nello spirito del cantiere perché ricordiamoci bene il fondatore Hans Verna Hens sognava di una collaborazione tra professionisti e non professionisti e aveva in mente una collaborazione dove tutti sono insegnanti e allievi allo stesso tempo collaboriamo in questa situazione in questa produzione con la orchestra poliziana dell'istituto di musica sono tutti allievi non sono ancora studenti della musica in un conservatorio abbiamo la corale poliziana amatori della musica non professionisti abbiamo bravissimi studenti del conservatorio Cherubini di Ferenze quasi professionisti e stiamo strettamente collaborando con una professionista di altissimo livello Mattia Cappelletti e Maria Paola che ci guidano come regista come coreografa e me stesso come direttore di questo progetto senti Roland il punto di forza del cantiere è l'interculturalità quindi anche quest'anno tante culture tanti ragazzi che vengono da tutto il mondo come ti trovi a lavorare con tutti questi ragazzi qualcuno ha la prima esperienza qualcuno è già un po' già partecipato al cantiere si è sempre di nuovo una grande gioia per me riunire o mettere insieme persone anche quelli che non si conoscono da prima per me è ovvio che una volta entrato nell'ambito del cantiere proprio nello spirito del cantiere tutti hanno già capito di che cosa si tratta e non solo una cosa atmosferica di stare bene di godersi della vita no è proprio un lavoro molto molto serio anche abbastanza duro ma con un obiettivo che ci libera che libera la mente la creatività è veramente fantastico e il nostro mondo musicale e culturale non importa da dove vengono i collaboratori veramente no devo dire che ho sempre trovato e anche partecipato alla creazione di uno spirito comune una fiducia comune una collaborazione in tutta responsabilità solidarietà e con tanta passione quindi per me è uguale veramente è un grande piacere che tra i nostri solisti sono per esempio Adina romena e Andrea cinese ma nato in Italia come due esempi di questa internazionalità e meravigliosamente tutti e due parlano l'italiano perfettamente quindi per quanto riguarda la lingua non ci sono problemi ma la lingua della musica e la lingua anche diciamo è universale quindi non ci capiamo subito allora prima di parlare con Alina e con Andrea io volevo passare la parola alla regista del primo spettacolo un po' l'emozione di essere un po' il primo spettacolo che inaugura tutti questi 62 61 spettacoli di cui si compone il cantiere internazionale qua abbiamo Matèda Cappelletti che lavora al mondo alla rovescia come ha lavorato su quest'opera quali sono qual è il messaggio che tramite quest'opera vuole far arrivare allo spettatore questa è un'opera molto curiosa e penso che tutti dovrebbero vederla il motivo è semplicemente perché è di una modernità incredibile pensate che tutti i grandi temi dell'illuminismo cioè la ricerca di un mondo diverso di un mondo migliore di un'utopia una visione sono gli stessi che vogliamo trovare oggi ovvero la fine di un contrasto di genere quindi la fine della subordinazione delle donne agli uomini e allo stesso tempo anche la fine di ogni estremismo quindi la storia parla di un gruppo di donne coraggiose che sono partite dall'Europa per fondare un mondo in cui le donne dominano sugli uomini quindi avremo gli uomini vestiti con sottane che tengono gli occhi bassi e ricamano e le donne generala aiutanta e colonnella con il loro esercito di soldate però poi alla fine vediamo che anche questo non funziona tanto bene e forse ci sarà una sorpresa finale nell'avvicinarsi del mondo maschilista e del mondo diciamo portato all'estremo di una tirannia di donne per trovare una soluzione che possa essere una soluzione come una visione di pace e di possibilità di amore al di là del rapporto diciamo così convenzionale uomo-donna ma anche se necessario uomo-uomo donna-donna o un colombone-donna non si sa il ruolo del colombone che interpreta Andrea è un ruolo che va assolutamente visto perché è una specie di santone guru e questo ha tantissimo a che fare con lo spirito illuministico di denuncia di ogni tipo di superstizione cioè quella parte della religione che è veramente del deteriore quindi un sacco di temi moderni un sacco di temi molto divertenti perché ci sono dei paradossi vedendo degli uomini il coro che il poliziano che fa quest'opera insomma i primi giorni vestiti tutti i grandi professionisti medici ingegneri amanti della musica che partecipano a vedersi vestiti da donne non è stato facile ma abbiamo imparato molte cose sulle donne sugli uomini e sui loro problemi reciproci quindi penso che sia molto divertente e che dobbiate venirlo a vedere poi l'altra cosa che volevo dire è che lavorare a Montepulciano è una meraviglia non solo per il luogo ma per l'atmosfera che si respira rinforzando quello che ha detto il maestro che è qui da tanti anni e quindi voglio dire non ci si sarà abituato perché non ci si può abituare una cosa del genere però è veramente uno shock ritrovare quella che è la visione che io avevo conosciuto a Obra lasciata a The Britain and Pears la visione che aveva lasciato il maestro Farulli con il maestro Desdeli nel progetto Mozart qualche cosa che mi è molto caro la visione di un mondo migliore attraverso la musica attraverso l'amicizia attraverso la conoscenza e la diffusione della cultura a tutti i livelli dai professionisti agli studenti a chi si avvicina a quella prima volta a un lavoro durissimo perché stiamo facendo un lavoro durissimo e dicevo prima al maestro gli spunterà l'aureola perché lui l'ho visto dirigere al maggio musicale fiorentino so che è diretto alla Scala nei più grandi teatri e viene qui con una pazienza per dare qualche cosa a chi deve imparare e questa è la cosa più bella veramente il cantiere ha anche questo potere di mettere insieme professionisti ma anche persone che sono comunque alle prime armi tu come ti sei trovata a lavorare con diverse professionalità con tante sfaccettature con tante anche nazionalità diverse allora per me è un'abitudine perché è una scelta nella mia vita di professionista se devo scegliere tra lavorare in un grosso ente e in una piccola realtà di formazione forse contrariamente a quello che dovrei fare per la mia carriera io preferisco la seconda perché mi dà la sensazione di restituire tutto quello che o una parte di quello che ho potuto ricevere in anni molto felici in cui la cultura in Italia era molto più facile e aveva delle grandi personalità che la rifondevano ora abbiamo vissuto un momento molto buio lo stiamo vivendo ancora e quindi che ci sia un vivaio di giovani musicisti strumentisti e cantanti che possono portare avanti l'opera che è un genere che ci fa onore in tutto il mondo che ci distingue distingue l'Italia in tutto il mondo è molto importante altrimenti questo va a finire e sarebbe veramente un pittato sì qui c'è proprio il massimo di questa atmosfera di questa dedizione in cui tutti fanno tutto nessuno si preoccupa di fare cose che non gli competerebbero in altre situazioni veramente c'è la utopia resa cantiere per cui questo si sente si respira ma con noi c'è anche Maria Paola Cordella che è la coreografa dello spettacolo del primo spettacolo il mondo alla rovescia come hai lavorato su questo spettacolo e ovviamente come hai lavorato a fianco dell'acqua presente regista allora come ho lavorato ho lavorato prima di tutto mettendomi in ascolto l'intuizione è stata osservare mi sono passati tre minuti per capire come funzionava la macchina è una macchina fatta di tantissimi ingranaggi e non esiste un ingranaggio principale e le routine appresso tutto si muove in maniera straordinariamente oliata non esiste dire non esiste fatica sarebbe grande bugia non mi crede nessuno la fatica c'è ma la fatica è compensata dalla grande soddisfazione e dalla grande passione che di giorno in giorno cresce più il lavoro diventa meticoloso più si scende nel particolare e più ci cresce qualcosa dentro io vedo Roma mi vedo Matelda alla cura del mio e io mi sono messa in ascolto e in piano e questo per me è un grandissimo onore è una grandissima esperienza perché io vengo dal teatro di strada quindi tutt'altro genere e diciamo questo senso di livella in strada livella intesa come l'intendeva Totò faccio una citazione proprio dove tutti si è allo stesso livello e in un ambiente così importante con una storia così grande sono arrivata con la valigia carica di umiltà perché non si sa mai dove posizionarsi e invece ho avuto un'accoglienza come se fossi una di famiglia ed è questo che si sente molto a Montepulciano il senso di famiglia il senso di essere a servizio di una cosa che è molto più importante del singolo molto più importante dell'obiettivo personale che uno mira a raggiungere e diventa questa macchina miracolosa che è veramente affascinante e poi lavorare con i ragazzi è sempre molto stimolante tutti sono compresi nel dare un contributo non c'è non c'è la reverenza e questa è una cosa meravigliosa perché la reverenza poi ci rende prigionieri e imprigiona la nostra creatività invece qui sono sempre fuochi d'artificio alcuni appropriati alcuni meno perché non tutti siamo uguali viva Dio dico io ed è ed è estremamente interessante vedere come arriveremo al 14 quindi dalle tue parole ho già capito che comunque questa tua prima esperienza al cantiere internazionale d'arte non può essere che positiva non è positiva è straordinaria nel senso che si pensa sempre di imparare qualcosa la grande fortuna del nostro mestiere è che se uno è ben disposto ogni situazione ti dà qualcosa e ti lascia qualcosa però la meraviglia è veramente la meraviglia di questa atmosfera così così leggera non c'è stress non c'è sicuramente ci sono dei momenti un pochino più complicati ma lo stress scivola scivola perché probabilmente è talmente chiaro l'obiettivo finale che ci si passa sopra devo dire che sono rimasta molto sorpresa dall'avventurosità del coro poliziano sono stati strepitosi proprio per dirla sì perché ci si immagina remore ci si immagina vergogna giocando in casa grandi professionisti tutti rovesciati invece hanno dimostrato una grandissima apertura e una grandissima giocosità proprio si sono messi in gioco nel sistema nel meccanismo che Mattel insieme a Roland hanno veramente preparato in modo che tutti nonostante come dire la prima impressione si trovassero a proprio agio e questo credo che sia una delle radici che muove il cantiere cioè dove ciascuno trova la propria collocazione e la propria soddisfazione che non è un livello personale è proprio una sensazione che riguarda tutti e si propaga penso siano le emozioni che ve le ha descritte proprio benissimo perché qua abbiamo Alina dalla Romania e Andrea dalla Cina giusto? no più o meno più o meno più o meno è romagnolo ma allora ragazzi voi siete stati tirati un ballo diverse volte proprio per la vostra internazionalità diciamo che siete un po' la parte concreta dell'internazionalità del cantiere vi hanno fatto tanti complimenti a questo punto io chiedo a voi com'è lavorare che cosa provate a lavorare con dei professionisti come loro con una realtà così bella così apprezzata che insegna tanto oltre che a donare tanto al pubblico niente c'è poco da aggiungere quello che hanno detto loro l'atmosfera che hanno descritto l'abbiamo sentita dalla prima prova e allora mi sono rilassata siccome avevo anche importanza di lavorare con dei professionisti come loro sono molto contenta di fare uno dei miei primi passi fuori dal conservatorio qui al cantiere di avere conosciuto i miei colleghi che sono molto molto bravi e bellissime persone insieme ai nostri maestri devo dire che c'è un po' di vento e questo sono veramente contenta è un'esperienza bella Montepulciano è un posto come si diceva anche l'altro giorno con una mia collega Cecilia Pagatini che il tempo si ferma qua e siamo tutti insieme a fare della bella musica e sono molto contenta Andrea e anch'io sono molto contento di essere qui a Montepulciano e sì devo ammettere che appena sono arrivato non conoscendo nessuno ero molto emozionato però ho percepito subito quest'aria di famiglia che c'è tra i cast tra i maestri e quindi mi sono trovato subito molto bene sentite come vi siete avvicinati al canto lirico perché tu sei tu sì sì sono io sono un soprano Andrea è un baritono in realtà io per caso perché volevo fare l'attrice i miei mi hanno spinto sempre verso la matematica io invece ad un certo punto ho detto voglio fare musica ho fatto un po' di violino poi non si poteva perché ero troppo grande e allora devi cantare e ho cantato e questo è stato un'attima scelta devo dire sì sì per il momento sì io ho iniziato alle medie col flauto traverso ho fatto sei anni di consello innovatorio dopodiché mi sono dato al canto dato che gli insegnanti mi hanno spinto molto e dicermi che avevo una bella voce e dai mi hanno spinto a provare dopo mi è piaciuto e hai la possibilità di vivere tutto questo allora Roland grazie davvero perché tu ci porti sempre delle personalità molto interessanti da conoscere e da scoprire allora ci stanno facendo segno che stanno arrivando anche i musicisti i musicisti facciamo posto facciamo posto un cambio velocissimo di set voi rimanete qua voi rimanete qua allora qui abbiamo nome e cognome e lo strumento che suoni Emiliano Marrocchi sono Iberia Iberia e De Gioia sono Iberia allora anche voi siete state lavorando in una realtà bella importante che sta regalando tante emozioni prima prima esperienza qua al cantiere no 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 ormai è 4-5 anni qua al cantiere poi è molti professionista professionista e poi comunque studiamo qua da ormai 12 anni quindi insomma sono ambientati bene e se invece sì sì anch'io sono molti anni che sono al cantiere quindi ormai è nota come cosa e come vi trovate a collaborare con altri ragazzi di altre nazionalità di altre culture al di là del fatto della nazionalità e della cultura però lavorare secondo me con professionisti nel senso che forse è proprio questo anche il fatto che è bello sì il fatto di avere scultura queste cose così però è proprio importante anche andare oltre queste cose e quindi capire che l'opportunità è fare arte con alcune persone alcune persone che nel nostro caso sono diciamo molto più brave e importanti di noi che però sono anche un obiettivo un riferimento una cosa a cui tendere e che quindi è formativa per noi sì io condivido quello che dice Emiliano la fine è anche una questione di lavorare tra musicisti perché ovviamente lavorare anche tra persone di nazionalità diverse ma qua si va oltre a nazionalità si va proprio all'interno del campo della musica che è tutto un altro non ci sono appunto distinzioni siamo tutti uguali lavorare con professionisti insomma per voi è molto molto gratificante e stimolante brevemente come vi siete avvicinati alla musica perché avete deciso di suonare lo strumento che suonate lascio una parola tutti stanno in parte io semplicemente di famiglia andiamo spesso a concerti siamo tutti musicisti e quindi è matato è stata è stata la storia la sua cosa ci hai pensato? sì io vedevo questi fai che suonavano su strumentino l'esilino mi sembrava facile quindi iniziamo poi è capitata difficilissimo però è andata bene comunque continuando e anche tu con questo strumento puoi godere di tutte queste emozioni che sta regalando il cantiere d'arte allora il cantiere internazionale d'arte partirà il 14 luglio fino il 30 di luglio qua a Montepulciano ma in tutto il territorio della Val di Chiana infatti alcuni spettacoli verranno fatti organizzati a Sinalunga Torrita di Siena San Casciano dei Bani insomma è una realtà che oltre a essere internazionale riesce anche a collocarsi in tutto il territorio allora ringraziamo tutti i nostri ospiti Roland che purtroppo è lì che ci saluta da dietro le quinte la regista Amatelda e la coreografa grazie a Rina grazie a Andrea grazie a tutti voi di essere stati con noi io vi do appuntamento a venerdì prossimo 17.30 circa sempre qua dall'Eneoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano venite a trovarci perché così potrete degustare il fantastico vino di Montepulciano grazie a tutti e ciao